Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti a questo appuntamento in diretta che come sempre anticipa il telegiornale delle 13 e 20. Siamo in compagnia del dottor Marco Agliotti che è il responsabile dei progetti della Caritas, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi, perché questa mattina è stato presentato un importante report realizzato dalla Caritas che da un lato fotografa il lavoro di Caritas, d'altro canto però anche restituisce uno sguardo sulla città e non a caso, Marco, voi avete analizzato il periodo pandemico, cioè da marzo 2020 ad aprile 2021, paragonandolo ai 13 mesi precedenti, cioè da gennaio 2019 a febbraio 2020. È una scelta quasi obbligata, mi pare di capire, per capire meglio i dati stessi che voi proponete. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori innanzitutto. Normalmente noi facciamo dei report annuali, quest'anno già da subito ci siamo mossi facendo dei flash report, come li abbiamo chiamati, sui singoli mesi, soprattutto i primi tre mesi del lockdown e poi con cadenza trimestrale. Adesso ci sembrava importante analizzare appunto tutto il periodo della pandemia e siccome i dati li avevamo di 14 mesi abbiamo pensato poi, per fare un raffronto corretto insomma, andare indietro prima della pandemia di altri 14 mesi e questo è il motivo per cui abbiamo scelto i due periodi di cui avevi parlato. La situazione di crescente povertà, questo potrebbe riassumere appunto tutti i dati che avete comunicato questa mattina, questa situazione è stata ulteriormente stravolta dalla pandemia, però se non ricordo male determinati segnali c'erano già. Sì, diciamo che noi avendo diversi servizi che si chiamano appunto bassa soglia, cioè a cui tutti possono accedere, spesso diventiamo antenne per problematiche sociali che si presentano nel territorio, quindi giustamente come dicevi tu alcuni segnali li abbiamo avuti già prima della pandemia e nel report del 2018 si segnalavano una serie di problemi, penso tra tutti ai minori in situazioni di povertà all'interno delle famiglie. Poi la pandemia ha fatto sicuramente esplodere questi fenomeni ma ce ne ha fatti conoscere altri o comunque ha reso ancora più evidenti altri. Su tutti penso la cosiddetta povertà alimentare, chi fa fatica a poter rispondere appunto al bisogno della spesa e del cibo. Infatti i dati sul nostro impor della solidarietà e il refettorio ci dicono questo, cioè aumentano molto il numero delle persone che sono residenti nel nostro territorio e che hanno queste problematiche. Tra l'altro Don Amodeo nell'intervista che noi vedremo nel telegiornale già alle 13.20 riassumendo un po' la situazione ha detto famiglie che fino a un anno, un anno e mezzo fa sopravvivevano adesso non ce la fanno più. Sì, su questo noi abbiamo rilevato come si è aumentato tantissimo il numero di persone con morosità di utenze. E questo è un altro dato? Sì, e questo è uno di quei segnali di cui appunto parlava Don Amodeo, cioè famiglie che riuscivano a pagare regolarmente le bollette di luce, acqua e gas e che adesso non ce la fanno. Un terzo delle persone che si è rivolto al centro d'ascolto della Caritas aveva questi problemi. E perché aveva questi problemi? O perché ha perso il lavoro oppure perché è un cosiddetto lavoratore povero e cioè non guadagna abbastanza oppure ha avuto una contrazione del lavoro in questo periodo e per questo motivo fa fatica appunto a rispondere in questo caso alla necessità di dover pagare bollette. Tra l'altro poi ci sono anche, immagino, questo magari non si evince dai numeri, però immagino che voi ne siate anche a conoscenza. Sappiamo benissimo che per esempio ci sono delle persone che possono ritrovarsi in questa situazione, non voglio dire da un giorno all'altro, però insomma poco ci manca. pensiamo per esempio ai casi in cui magari una famiglia ha un mutuo, si perde il lavoro e lì si precipita rapidamente senza, come si dice così, senza passare per il via, a situazioni inimmaginabili fino a pochi mesi prima. Lì c'è credo anche un contraccolpo psicologico. Sì, allora sul primo aspetto penso al mutuo e agli affitti, la maggior parte delle persone che arriva ai nostri servizi e che ha una casa, ha una casa in affitto nel mercato privato. O anche, sì. Quindi la contrazione del lavoro, la perita del lavoro ha un contraccolpo anche in tal senso. E quello che succede spesso è che le persone magari pagano prima le utenze e lasciano indietro gli affitti, cercando poi di, in un qualche modo, di tamponare con aiuti pubblici e così via. Dall'altra parte dicevi gli aspetti psicologici. Si parla molto, soprattutto nell'ultimo periodo, di pandemia psicologica. Guardando i dati che sono usciti anche qualche settimana fa della Suji, che ci dicono come c'è stato un aumento degli accessi nei servizi soprattutto di salute mentale, l'utilizzo di farmaci antidepressivi, è molto aumentato. E anche all'interno di un nostro nuovo servizio di ascolto, come è stato ed è il numero verde, arrivano tanti di questi casi. Quindi solitudine e problemi psicologici, se non addirittura psichiatrici, che sono stati aggravati, dacuiti dall'isolamento. Tra l'altro, tra gli strumenti che Caritas ha a disposizione per affrontare determinate problematiche, c'è anche il Fondo Ravignani, che è stato costituito dopo la scomparsa di Monsignor Ravignani. E leggo che in un anno sono state supportate 157 persone, segnalate da 17 parrocchie, anche qui per morosità bollette, affitti ed aiuti alimentari. Sì, esatto. È stato un valido aiuto e supporto, soprattutto a questa rete territoriale, che è formata appunto dalle parrocchie, che si fa molto vicina alle persone, alle volte più di quello che possiamo fare noi, perché proprio stanno nei quartieri, nel territorio. E quindi è stata importante questa collaborazione, che ha portato, ha fatto affiorare dei bisogni che non avevamo intercettato in altro modo. La parrocchia potrebbe anche in qualche modo supplire a quello che immagino possa essere un problema, che è anche qui quel senso di ritenzione che magari qualcuno potrebbe avere nel chiedere aiuto. Cioè sappiamo benissimo che c'è da superare uno scoglio, un ulteriore scoglio psicologico per recarsi dalle istituzioni ed ammettere che si hanno questi problemi. La parrocchia questo lo può, immagino, lo può capire da altre cose e può fungere da, diciamo, da mediatore, mettiamola così, insomma, molto discreto, può mettere in contatto voi Caritas con chi ha bisogno. Succede regolarmente attraverso le Caritas parrocchiali, ma anche altre esperienze. E in questo periodo, sì, ancora di più, soprattutto appunto con l'istituzione di questo fondo, oppure penso anche ai buoni di una realtà della grande distribuzione, quindi supermercati, che hanno donato un'incendente quantità. Possiamo anche dire chi è il... Ah, sì, beh, la Coppa Alleanza 3.0 che ha donato tanti buoni della spesa e noi le abbiamo date alle parrocchie, alle carte sparrocchiali, proprio per i bisogni delle persone. Dall'altra parte, però, forse i servizi di Caritas di Ocesana possono garantire un maggior anonimato rispetto al fatto di essere, diciamo, all'interno del proprio quartiere, come può essere appunto la Caritas parrocchiale, la parrocchia. Quindi dipende molto dalle persone. Certo, mille persone in più nei nostri servizi ci dice che... Persone in più, scusate, mi correggo, mille persone nuove che non si erano mai avvicinate ai servizi di Caritas ci dicono che effettivamente tante persone sono arrivate. Uno su quattro al centro d'ascolto, più di uno su due all'emporto della solidarietà non si erano mai rivolte ai servizi di Caritas. Rispetto a tutti i dati che avete comunicato, che riguardano appunto... Penso che li abbiamo scorsi eventualmente quasi tutti quanti, no? Però qual è quello che magari personalmente ti ha colpito di più perché pensavi che non fosse così drammaticamente alto o che non fosse così incisivo? Allora, due dati. Il primo, del primo avevamo avuto già sentore da due anni, la presenza di tanti minori, come accennavo all'inizio. In questo anno di 14 mesi di pandemia abbiamo preso in carico attraverso le famiglie 870 minori. E questo è un dato che personalmente mi inquieta perché significa che c'è una povertà minorile importante nel nostro territorio. Invece una cosa che mi ha stupito perché non pensavo è ai tanti giovani che si sono rivolti ai nostri servizi e i giovani che non sono i migranti della rotta balcanica, di cui sappiamo, cioè chi arriva dalla rotta balcanica è prevalentemente, non esclusivamente, giovane. Ma i giovani residenti, c'è stato un aumento del 16% di questi giovani residenti nei nostri servizi. Questo è il dato che tra tutti forse mi ha colpito di più. C'erano dei trend a livello nazionale, però Trieste generalmente o arriva prima, spesso, o arriva per ultimo rispetto alle dinamiche nazionali. Questo dato è effettivamente nuovo. Stiamo parlando di ragazzi giovani che erano già disoccupati prima della pandemia o persone che hanno perso il lavoro o avevano un lavoro precario o un lavoro in nero e che adesso si trovano in situazioni di difficoltà. Il report è anche, immagino, una base, mettiamola così, da cui poi calibrare il proprio lavoro in prospettiva. Anche qui, gioco forza, abbiamo già forse risposto a questa domanda, però da qui come ripartite? Tenendo in considerazione quali elementi? Ci sono, allora, per esempio l'elemento giovani. In questo momento nelle nostre strutture di accoglienza ci sono accolte tante persone neomaggiorenni e questo ci colpisce molto. Ci stiamo molto confrontando con i colleghi dell'area appunto accoglienza e proprio in questi giorni abbiamo presentato un progetto europeo per capire come in altri territori, penso l'Ungheria, l'Inghilterra, l'Irlanda, stanno affrontando questo fenomeno, che è un fenomeno che arriva dagli Stati Uniti. Dieci anni fa c'erano tantissime persone, senza una casa, giovani, 18, 24, 25 anni e adesso questo fenomeno è arrivato anche da noi in Italia ed è presente a Trieste. Per esempio questo è uno dei temi che stiamo affrontando attraverso una comprensione di come rispondere al meglio a questo fenomeno. Mi riaggancio a quello che avevi detto prima, immagino che voi siate in contatto anche con le altre Caritas nazionali. Grosso modo le problematiche sono queste oppure a Trieste si evidenzia qualche cosa in più? Qualche cosa di specifico? Caritas nazionale è uscito martedì con un report di circa 180 Caritas italiane. Emergono alcuni dati che sono simili, per esempio il fatto che circa un quarto delle persone sono nuove, però analizza solamente i dati principalmente dei centri d'ascolto. Mentre il lavoro che abbiamo fatto noi è più capillare perché prendiamo in considerazione problematiche molto diverse. Le problematiche che arrivano al centro d'ascolto sono diverse da quelle che arrivano alle strutture d'accoglienza. Quindi diciamo che ci sono dei dati che vanno in un trend, ma ci sono dei dati nuovi perché non ancora esplorati all'interno della rete Caritas. Ho capito. Ultima domanda perché dobbiamo chiudere. In questi mesi poi non si è interrotto, anche se forse è cambiato in qualche senso il flusso dalla lotta balcanica. No. Oggi sono usciti i dati, li avrete letti dal piccolo, sui flussi, sugli arrivi in regione. Più o meno tra il 2020 e maggio 2021 sono arrivati più di 4.000 persone. Noi all'interno dei servizi che abbiamo istituito in collaborazione con la prefettura per accogliere le persone dalla lotta balcanica ce ne siamo presi in carico più di 2.700 persone. Quindi più o meno il 60% di quelli che sono arrivati. L'abbiamo fatto all'interno dell'isolamento fiduciario, che quindi di quelle strutture che servivano come servono a tutte le persone straniere che arrivano in Italia per fare un periodo, appunto 14 giorni, che forse si abbasseranno, per monitorare la condizione di salute. Quindi non parliamo di persone positive. Dall'altro verso però, se c'è stato un aumento lungo la rotta balcanica, c'è stata una diminuzione, e oggi sul piccolo se ne parla e anche i nostri dati dicono questo, delle presenze dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza. Perché si è rallentato il liter per la richiesta di asilo? Perché per mesi la commissione non ha lavorato e le persone non potevano uscire dall'accoglienza e i numeri sono nettamente diminuiti. Allora io ringrazio il dottor Marco Agliotti, responsabile dei progetti Caritas, per essere stato con noi. Buon lavoro, buon proseguimento del vostro lavoro, che è sempre, ma in periodi come questo, davvero importantissimo e deve essere assolutamente apprezzato. Grazie ancora davvero. Grazie, buona giornata. Publicità, poi il telegiornale. Telespettatori di Telequattro, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sono dati pesanti quelli contenuti nel report della Caritas, che fotografando il proprio lavoro durante la pandemia restituisce uno sguardo preciso sulla città. Caritas ha preso in esame il periodo fra marzo 2020 ed aprile 2021, comparandolo con i dati dal 1 gennaio 2019 alla fine di febbraio 2020. I numeri rispecchiano la situazione di povertà del territorio ed evidenziano criticità, fabbisogni e storie. Ad esempio, il numero delle persone che Caritas ha aiutato sono 6.562, con una crescita del 13,3%. Di queste, 3.095 sono residenti a Trieste. I nuovi poveri, quelli che non si erano mai rivolti alla Caritas, sono stati 4.561, 1.000 in più rispetto allo scorso anno, pari al 69,9% del totale delle persone che si sono rivolte alla Caritas. Questa sera nel telegiornale un servizio sui dati, ma sentiamo adesso alcuni commenti ai dati presentati questa mattina in Curia. Colpisce di più l'aumentare di situazioni di povertà? Colpisce di più l'aumentare della povertà nella fascia giovanile? Colpisce di più, certamente, il fatto che certe famiglie che prima se la cavavano o vivevano, oggi non se la cavano più. Abbiamo dovuto rimodulare completamente tutti i nostri servizi dedicati alla bassa soglia e con grande soddisfazione possiamo dire che nessuna persona è rimasta al freddo, che sia italiano o straniero, che sia stanziale o migrante, ma soprattutto abbiamo dimostrato che siamo in grado come comunità di servizi di rimodularci a seconda delle nuove necessità. Dietro i numeri ci sono delle persone, e ci sono delle persone in grande difficoltà, bisognose, fragili, situazioni familiari, al limite, bambini, migranti, eccetera. Chi più ne ha, più ne metta. Ma dietro questi numeri ci sono anche altre persone, che sono i volontari, che sono gli operatori, che c'è tutto un mondo anche presente qui nella nostra città che cerca di dare una risposta a queste domande che arrivano dal mondo delle persone fragili. E questo, devo dire, il rapporto della Caritas lo registra ed è un grande insegnamento. Io ci trovo soprattutto lì. un segnale di speranza, di fiducia e di incitamento ad andare avanti, perché il bene c'è. Il flusso dei migranti a Trieste è continuo, ma la gestione del traffico è frammentata. Non grandi organizzazioni, ma spesso iniziative individuali. E la fotografia del fenomeno migratorio scattata, diciamo così, dal procuratore capo De Nicolo. I rintracci di migranti a Trieste sono ormai quotidiani. Molti arrivano a piedi, varcano boschi e campi del Carso. Non c'è neanche bisogno di arrivare col furgone. A volte abbiamo la fortuna di individuare chi li accompagna, ma è come svuotare il mare con un cucchiaino. A parlare in un'intervista a Lanza è il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, che così fotografa il fenomeno migratorio che interessa il Friuli Venezia Giulia e su cui la procura della direzione distrettuale antimafia del capoluogo Giuliano tiene i fari puntati. Al momento, tuttavia, spiega il procuratore, non c'è il sentore che sia gestito dalla criminalità organizzata nostrana. Piuttosto si tratta di un settore molto frammentato. L'impressione è che chiunque abbia un furgone cerchi di fare business, una sorta di malaffare fai da te. De Nicolo spiega come le indagini avviate dal suo ufficio allo Stato dimostrino come spesso si tratti di iniziative individuali spinte forse da questa crisi economica. Sicuramente, come accade anche nella droga, ci sono organizzazioni di ampio respiro che lucrano sul fenomeno e ci sono traffici transnazionali, aggiunge. Stiamo cercando di impostare indagini di ampio respiro e spendiamo moltissimo tempo e fatica, ma ci sono moltissime frange del fenomeno e non è semplice cogliere una strategia complessiva. Le centrali da dove partono i traffici sono molto lontane. Servirebbe una collaborazione con stati extraeuropei. Tuttavia, le indagini in questo settore sono uno dei core business della direzione distrettuale antimafia. E adesso c'è il nostro consueto rullo di cronaca che riguarda alcune notizie in breve. Sanzionati la scorsa notte per aver violato la normativa antipandemica quattro cittadini romeni, due uomini, due donne di età comprese tra i 29 e i 44 anni sono stati notati, fermati e identificati da personale della squadra volante in via del Ghirlandaio pochi minuti prima del luna. Si trovavano in palese stato di alterazione alcolica. La scorsa notte i carabinieri del radiomobile di Aurisina hanno arrestato un 66enne romeno destinatario di ordine di carcerazione. Lo straniero è responsabile di due furti di generi alimentari e alcolici e di un paio di scarpe commessi nel 2013 nella provincia di Lecco. Era a bordo di un pullman diretto in Spagna. È stato condotto al coroneo dove sconterà la pena di due mesi di reclusione. Aveva fatto della sua casa in via Duca d'Aosta a Gorizia una centrale di spaccio di eroina. Dopo una breve attività d'indagine partita osservando l'anderivieni di molti tossicodipendenti locali dall'abitazione la squadra mobile della Questura ha arrestato un giovane goriziano. Svolte gli accertamenti per risalire all'identità dello spacciatore che puntualmente alle 11 del mattino si recava oltre confine a acquistare la droga da una giovane slovena è stato richiesto alla Procura della Repubblica un decreto di perquisizione della sua abitazione. Gli agenti vi hanno trovato un etto di eroina nascosto in parte nel forno della cucina e in parte in una scatola di giocattoli custodita all'interno della scarpiera. Oltre alla sostanza stupefacente alcune boccette di metadone è stato anche trovato tutto il corredo necessario al confezionamento delle dosi. Dopo il suo arresto il giovane è stato condotto alla casa circondariale di Gorizia. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale a Palazzo San Sebastiano ci aspetta il commissario De Grassi buongiorno Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori Cosa ci racconta di questa mattinata? Ma guardi è stata una mattinata per noi in generale come corpo ma soprattutto come sede operativa direi campale perché da questa mattina le siete che i telefoni non smettono di sfumare purtroppo per fortuna diciamo le attività sono riprese in generale quasi totalmente ma di conseguenza tutto il resto è comunque si è amplificato moltissimi incidenti stradali ne cito solo uno che era più grave con due feriti seppur no le lesioni non sono gravi ma più spettacolari in Cadorna San Giorgio due veicoli sono intervenuti anche vigili del fuoco perciò abbastanza danni ingenti se non altro e tanti altri anche piccoli e numerosissime chiamate mi sento di spezzare un'allianza o di fare un appello alla cittadinanza noi abbiamo un numero telefonico con dei risponditori non so se lo sapete ed ha varie opzioni al numero uno ci sono gli incidenti e poi a seguire ci sono indicazioni per raggiungere o come fare per sapere altre notizie in merito ad esempio alle contravizioni o agli incidenti io pregherei almeno a chi ne ascolta se ci sono se non ci sono reali bisogni di non premere il numero uno del tasto perché sono quelli dei incidenti stradali e occupano le linee anche diciamo per un motivo di sicurezza sanitaria detto questo per il resto traffico appunto ingente ingente molto sostenuto in tutta la città segnalo come ho già fatto questa mattina un restringimento di carreggiata per lavori in brigata casale in intersezione Montessaneo che è abbastanza diciamo una zona sotto altura abbastanza di scorrimento perciò attenzione moderare la velocità in zona per il resto al momento non abbiamo niente di particolare in nota per il pomeriggio e niente vi restituirei le linee grazie commissario buona giornata e buon lavoro buona giornata e buon lavoro grazie ancora adesso parliamo di centri estivi sono stati ampliati i posti disponibili per i centri estivi e i ricrestate sentiamo l'assessore comunale dell'educazione Angela Brandi ci saranno circa 600 posti in più per ciascun turno settimanale per quanto riguarda le attività ludiche e ricreative all'interno di 12 realtà territoriali 12 realtà sportive e ricreative del territorio grazie alla collaborazione con il CONI hanno risposto positivamente all'appello lanciato dall'assessore comunale all'educazione Angela Brandi e permetteranno al comune di ampliare l'offerta per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni per ognuno degli 11 turni settimanali previsti dal 14 giugno al 3 settembre la giunta ha assegnato un milione e mezzo in più di euro in questo modo io posso ampliare sia i posti per quanto riguarda i centri estivi scorrendo le graduatorie e sia i posti per quanto riguarda i ricrestate con l'adesione che è stata resa possibile grazie alla collaborazione di alcune società e associazioni sportive le famiglie interessate potranno avanzare la domanda online a partire da sabato 22 maggio fino al 30 del mese le graduatorie saranno pubblicate il 3 giugno prossimo ci auguriamo di poter soddisfare molta parte della domanda che ci è arrivata perché ci sono arrivate quasi 3.000 domande per quanto riguarda i ricrestate e quasi 2.000 per quanto riguarda i centri estivi gli ospiti della puntata di ring di quest'oggi in onda a partire dalle 21 sono l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trieste Elisa Lodi e poi i consiglieri comunali Radam e Serazza della Lega Michele Babuder di Forza Italia Giovanni Barbo del PD Sabrina Morena di Open FWG quindi Arlon Stock di Podemo e questa mattina no chiedo scusa e questa mattina è giunta la notizia di un importante successo per quanto riguarda Fincantieri una importante commessa Il Dipartimento della Difesa Statunitense ha annunciato che la US Navy eserciterà l'opzione del valore di circa 555 milioni di dollari che assegna alla controllata americana di Fincantieri Marinette Marine la costruzione della seconda fregata lanciamissili della classe Constellation Marinette Marine sta attualmente lavorando alla fase di progettazione di dettaglio della prima unità la produzione inizierà alla fine di quest'anno con consegna dell'unità prevista nel 2026 il programma Constellation è stato assegnato nel 2020 a Fincantieri Marinette Marine con un contratto per la prima fregata con l'opzione per 9 ulteriori navi oltre al supporto post vendita e l'addestramento degli equipaggi del valore complessivo per Fincantieri di circa 5,5 miliardi di dollari nell'ambito del programma la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità per un totale di 20 Fincantieri sottolinea in una nota di essere riuscita a imporsi sui competitor grazie ad un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo la proposta del gruppo infatti è basata sulla piattaforma delle fregate FREM ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico su cui si fonda un programma di 10 unità per la marina militare italiana Marinette Marine si legge ancora rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group che controlla altri due siti sempre nella regione dei grandi laghi nel Wisconsin Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine e annovera clienti commerciali e governativi tra cui la US Navy e la Guardia Costiera americana oltre a sviluppare il programma Littoral Combat Ships Marinette Marine sta costruendo quattro unità multi-mission surface combatants destinate al regno dell'Arabia Saudita nell'ambito del programma Foreign Military Sales degli Stati Uniti Presentato stamani in sala giunta comunale lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 24 maggio alle 19 l'opera dal titolo Incontroluce il bullismo è nudo vuole sensibilizzare proprio su questo tema Incontroluce il bullismo è nudo è il titolo dello spettacolo organizzato al Teatro Rossetti in collaborazione col Comune a cura dell'Accademia di Musical Theater di Trieste gli artisti alcuni di loro proprio vittime di bullismo metteranno in scena l'opera presentata già nel 2019 proprio al Teatro Rossetti che spazia in più campi musica recitazione e canto lo spettacolo è pensato per definire le varie tipologie di bullismo e di bulli oltre che analizzare l'ambiente in cui il fenomeno si sviluppa correlandolo ad altre figure chiave come insegnanti e genitori lo spettacolo senza la presenza del pubblico sarà fruibile online sulla pagina YouTube del Comune di Trieste lunedì 24 maggio alle 19 è un grandissimo piacere un onore perché il messaggio è forte poi uno spettacolo fatto dai ragazzi per i ragazzi su un palcoscenico come quello del Rossetti un musical con i Rossetti che è una delle grandi case del musical a livello nazionale oltre che un importantissimo teatro di prosa e dico che si prospetta una serata molto bella molto significativa con un messaggio forte che deve arrivare il più lontano possibile eccoci allora possiamo chiudere con la pagina dedicata al tempo sul Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni affluiranno in quota correnti umide dal sud ovest di origine atlantica nei bassi strati domani saranno meridionali domenica pomeriggio orientali per oggi al mattino probabile cielo in prevalenza nuvoloso su tutte le zone in giornata su pianura e costa cielo da poco nuvoloso variabile mentre sulla zona montana sarà probabile maggiore nuvolosità anche al pomeriggio specie sulle prealpi con possibili piogge sparse in genere deboli sulla costa soffiera vento da sud moderato per domani invece sulla zona montana cielo in prevalenza coperto anche da nubi basse con piogge da moderata ad abbondanti nevicate oltre i 2000 metri su pianura e costa cielo nuvoloso con piogge sparse intermittenti in genere deboli o moderate sarà possibile anche qualche temporale soffiera vento in genere moderato da sud sulla costa dal sud ovest in quota specie sulle Alpi Giulie 17.30 Trieste in diretta 19.30 telegiornale 21 Ring ci vediamo dopo buon pomeriggio a presto